Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie, grazie. Buonasera ancora, allora, siamo qui allo spettacolo, siamo qui allo spettacolo, a bobbassare sta musica, grazie, buonasera a tutti, e allora siamo allo spettacolo finale per quanto riguarda i cantanti, è appunto uno spettacolo strepitoso all'insegno della musica, è lo spettacolo che l'Istituto Santa Maria vi offre questa sera, arti per lo spettacolo, ma non sarò solo, quest'anno abbiamo, come dire, voluto richiamare un ex. Siamo proprio così, buonasera a tutti voi, è un piacere immenso, che emozione. Eccola qui, Giulia Costantini, una nostra ex allieva, grande ragazza, una bella persona, è cresciuta, è cresciuta, è cresciuta, tra l'altro lavora da un po' di anni nel mondo dello spettacolo, una grande speaker radiofonica, attrice, insomma, tante belle cose. Grande, insomma. Grazie, grazie a questo speciale Istituto Santa Maria che porterò sempre nel cuore, ti fa sentire davvero il numero uno, ma ogni singolo alunno, ti fa sentire speciale. Hai visto? Allora, una serata bellissima per tutti noi. Iniziamo, iniziamo subito. Io sono emozionata. Perché i cantanti strepitano, sono là sotto, vogliosi subito di farsi sentire, e quindi chiamiamoli.